Torneranno in mare lunedì 26 settembre quasi tutti i pescatori giuliesi dello strascico rimasti in porto da oltre 40 giorni per la sospensione dovuta al fermo biologico. Questo perché solo oggi è arrivato l'ok al rientro in mare per la giornata lavorativa di domani 22 settembre, come richiesto inizialmente dai pescatori, che premevano per rientrare in mare anche se solo per un giorno. Ma visto il diniego iniziale di poter posticipare più in là questa giornata di fermo aggiuntivo, le imbarcazioni hanno deciso di rimanere in porto ancora per qualche giorno. Il fermo finisce oggi, però siccome dobbiamo riconsegnare delle giornate aggiuntive fino a fine novembre, lo Stato ha previsto che la giornata che saremmo potuti andare in mare domani in automatico veniva riconsegnata come fermo aggiuntivo. Noi abbiamo fatto la richiesta prima in capitaneria, la capitaneria ci ha detto che il ministero non lo prevedeva e tramite la col diretti settore pesca abbiamo fatto la richiesta direttamente al ministero per avere la possibilità di scalare questa giornata di fermo per procrastinarla a fine novembre. All'inizio ci è stato risposto di no e stamattina invece è arrivato l'ok per poter uscire in mare, però dalla sera alla mattina purtroppo l'equipaggio non lo ritrovi e quindi siamo costretti a rimanere fermo e ripartiremo domenica sera normalmente. C'è solo una barca che ha deciso di ripartire questa sera? Sì, solo una barca perché il proprietario essendo un grossista ha bisogno del pesce per sé. Ma nonostante gli oltre 40 giorni di fermo la situazione per il comparto pesca è rimasta la stessa, a preoccupare rimane in primis il caro carburante e per i pescatori giuliesi anche i problemi legati alla troppa sabbia presente in porto. Durante il fermo il prezzo del gasolio è diminuito, poi a pochi giorni dalla ripartenza è aumentato di nuovo, adesso sembra che sia aumentato qualche centesimo ma comunque il prezzo è ancora alto. Noi abbiamo iniziato la protesta quando il prezzo era a 90 centesimi, adesso sta a 1,10 euro, quindi il prezzo è ancora molto alto. In più è da vedere la situazione del porto, non essendo stato scavato i problemi si acuiscono. Nel frattempo buone notizie arrivano dal presidente regionale di Federpesca Vincenzo Staffilano che ha annunciato che entro l'anno verrà indetto un bando per chiedere l'indannizzo delle giornate di lavoro perse dal 24 febbraio, data di inizio della guerra in Ucraina. E le giornate di fermo obbligatorio relativi all'anno 2022 verranno pagate entro la fine del mese di ottobre.